ciao ragazzi come state allora pensavo poi sappiatemi dire anche voi nei commenti di chiamare questo canale l'angolo di claudia e di salomone perché mi sembra che salomone ultimamente voglia essere molto protagonista allora se salomone ovviamente me lo permette vorrei fare questo interattivo con voi cioè andare a vedere che cosa porta questo solstizio d'estate faccio l'unica stesa quindi per la collettività ma ovviamente riguarderà un po ognuno di noi ok quindi dunque vediamo vediamo se il signorino ci permette questa cosa mi scusi ecco bene allora partiamo con un arcano maggiore e andiamo a vedere energeticamente cosa porta questo solstizio d'estate l'estate è sempre un momento di rinascita quindi andiamo a vedere andiamo a vedere cominciamo con un arcano maggiore poi prendiamo un oracolo dagli oracoli oracolo risponde vediamo 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 ok ok e poi prendiamo un oscio zen e poi andiamo a vedere ovviamente con i tarocchi allora un oscio zen che cosa porta questo solstizio d'estate facciamo così ok cosa porta anzi facciamo ok cosa porta questo solstizio d'estate che cosa porta cosa ci porta e voilà allora siamo pronti andiamo a scoprire allora partiamo abbiamo la giustizia riparare e il coraggio wow bellissima questa carta del coraggio questo fiore che brilla ed esce dalla roccia allora io vedo qui delle energie quasi come equilibratrici 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 sì insomma allora qui io vedo vi vedo per la collettività quindi per tutti noi innanzitutto una grande un grande coraggio nel perseguire quello che desideriamo ok e la giustizia sarà dalla nostra parte giustizia nel senso di giustizia divina in questo caso ok o magari per alcuni di voi anche giustizia in senso materiale diciamo nella nella dimensione 3d ma quello che io vedo che questo solstizia porta tantissimo coraggio anche per alcuni anche nel aggiustare determinate situazioni ok ma vedo anche che c'è una sorta di come si come si come si volevo dire mi è uscita ce l'avevo fra le labbra di 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 vabbè lo esprimo in altre parole c'è una sorta di non era non volevo dire gratificazione ma proprio vabbè qualcosa che meritate insomma fondamentalmente ok cioè vi visto il sostizio d'estate vi porta il coraggio di strappare tutto ciò che meritate di prendervi tutto ciò che meritate ok e di per alcuni ripeto anche il coraggio di o qualcuno nei vostri confronti al coraggio prende coraggio per risanare o riparare alcune situazioni ok però quello che fa diciamo mi che vedo proprio emergere è il coraggio e la giustizia quindi sono due energie molto forti che danno veramente una grande vitalità a questa estate una grande propulsione positiva ok mi piace molto questa cosa andiamo a vedere con i tarocchi vediamo vediamo che cosa viene fuori allora intanto guardiamo subito il taglio del mazzo vediamo che cosa viene fuori abbiamo l'eremita e il 4 di bastoni al contrario allora il taglio del mazzo che cosa ci dice ci dice che in seguito a una situazione che è stata diciamo o è ancora magari non è detto che ancora un po' precaria ok noi con questa lanterna o qualcuno con questa lanterna si arma di coraggio ok si arma di coraggio per illuminare una situazione questo è quello che mi arriva ok che siate voi o che sia qualcuno questo è quello che mi arriva andiamo a vedere allora abbiamo il fante di coppe il sei di denari il fante di denari quattro di spade facciamo un po' più qua le vedete sì ok e la regina di bastoni allora sono bellissime dunque la regina di bastoni fra l'altro che arriva diciamo proprio così casualmente sotto la carta del coraggio la regina di bastoni è con lei che manifesta la propria magia con grande coraggio ok quindi io vi vedo innanzitutto parliamo delle energie del collettivo vi vedo vedo il collettivo la collettività veramente è molto coraggiosa e vedo anche durante questo periodo estivo io vedo alcuni di voi che potrebbero fare degli incontri importanti ok per il proprio futuro vedo anche situazioni riparatorie con questo fante di coppe e questo fante di denari quindi rientra anche questa diciamo possibilità per alcuni di noi della collettività ok ma io qui vedo che arrivate avrete un gran successo la regina di bastoni è con lei che con coraggio ottiene ottiene successo ottiene quello che desidera ottiene quindi per giustizia divina quello che vuole manifestare quindi questo solstizio d'estate io lo vedo pieno di occasioni di incontri importanti ma molto finalizzati a quello che desiderate voi è come che come ho detto prima ripeto ognuno di noi prenda il coraggio si armi di coraggio o diventi coraggioso ma non è una decisione razionale cioè entrerete in questo dopo il solstizio d'estate in questa energia molto coraggiosa e molto determinata ok cosa cosa significa significa che automaticamente si manifesteranno attorno a voi situazioni che vi renderanno una regina di bastoni cioè vi renderanno vincitrici rispetto a determinate situazioni ora ovviamente ognuno ha le proprie situazioni però io vi vedo vedo ognuno di noi del collettivo vincente ok quindi quest'estate io la vedo un'estate vincente un'estate coraggiosa e meritevole di quello che desiderate ok questo è un po' il punto volevo vedere volevo approfondire approfondiamo questa giustizia approfondiamo questa giustizia vediamo il taglio ancora pazzesco ancora l'eremita e il mondo allora sì qui c'è ragazzi ancora l'eremita qui c'è una situazione che io ovviamente questi sono altri messaggi ancora riguardo a questo solstizio d'estate che vi renderà giustizia quindi indubbiamente qui ci saranno delle situazioni per qualcuno della collettività che renderanno finalmente giustizia ok quindi ci sarà una sorta proprio di gratificazione o quello che chiamiamo anche finalmente giustizia divina voglio vedere questo riparare sta riprendendo ok andiamo a vedere questo riparare taglio abbiamo e di nuovo l'eremita no è pazzesco ragazzi pazzesco sì ragazzi mi ribadisce con questo 5 di coppa al contrario che qui c'è qualcuno o siete voi o c'è qualcuno che in seguito al solstizio d'estate vuole aggiustare una situazione la vuole non solo aggiustare ma migliorare in base a queste carte assolutamente qui c'è una situazione emerge molto questa cosa c'è una situazione ovviamente per ognuno di voi sarà diversa che finalmente vi darà giustizia quindi o è diciamo un contesto ok in cui finalmente voi emergerete come regina di bastoni grazie al vostro coraggio o siete voi che proprio vi scrappate questo questo però mi viene da dire più che viene dall'esterno cioè è qualcuno o un contesto di persone o qualcuno che vi renderà merito di qualcosa ok e andiamo a vedere finalmente questo coraggio che mi piace moltissimo è una situazione fra l'altro con questa erimita che viene fuori spessissimo che è tanto che voi non so come dire aspettate che questa situazione vi renda un po' giustizia andiamo a vedere questo bellissimo coraggio ok vediamo il taglio allora abbiamo il re di bastoni al contrario e il cavaliere di denari al contrario allora questo coraggio riguarda secondo secondo me riguarda una persona che aveva una situazione ok perché possiamo anche definirla così come dicevo prima che aveva le energie bloccate o qualcuno che per esempio non si voleva esporre più di tanto non voleva manifestarsi più di tanto non è detto che sia per forza amore parlo in generale una situazione o qualcuno che aveva come re di bastoni e cavaliere di denari al contrario queste energie bloccate ok queste energie di concretezza di manifestazione bloccate questa situazione cambierà cambierà proprio grazie o al vostro coraggio o appunto come dicevo prima a l'azione di qualcuno magari proprio di questo re di bastoni e questo cavaliere di denari che cambieranno la loro energia aspettate perché ecco ci siamo ok e quindi torna un po' il concetto di una situazione che vi renderà merito vi renderà giustizia quindi la chiave qual è la chiave è questa il solstizio d'estate vi porta ciò che finalmente desiderate da tanto tempo ok o perlomeno le basi ok con un fante di coppia un fante di denari sicuramente ci sono le basi affinché questa situazione venga a darvi merito venga a darvi giustizia ok quindi avrete la collettività riceverà una grande soddisfazione una grande gioia e una grande eccola che mi è venuta la parola ricompensa che può essere una ricompensa economica può essere una ricompensa emotiva una ricompensa insomma di qualsiasi genere la parola chiave è verrete la collettività verrà ricompensata finalmente di qualcosa grazie a questo coraggio sicuramente grazie al coraggio di ognuno di noi sicuramente ma anche e quindi anche perché se siamo tutti collegati di qualcuno verso di noi ok quindi la parola chiave in questo solstice d'estate coraggio coraggio e ricompensa e successo e gratificazione e manifestazione di qualcosa che aspettavamo da tempo ok allora siccome però io non sono ancora adesso vediamo un po' che cosa posso prendere volevo mettere una carta di questi bellissimi oracoli sefirion allora adesso li prendo e mettiamo anche una carta di questi guardate un po' allora no ho sbagliato volevo l'altro mazzo volevo l'altro mazzo eccolo qua eccoci qua allora andiamo a mettere anche queste le possiamo togliere andiamo a mettere anche una carta di questi oracoli sefirion come ultimo messaggio del solstizio d'estate di cosa porta questo solstizio d'estate dunque 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 vediamo vediamo questa wow ragazzi il risveglio che meraviglia wow allora qui per alcuni di noi c'è un vero e proprio risveglio c'è un vero e proprio risveglio grazie ripeto a questo coraggio che abbiamo quindi c'è qualcuno della collettività che avrà un grande coraggio di di proprio come posso dire trasmutare la propria vita in un risveglio vero e proprio ok e il risveglio anche di una situazione ok bellissima questa carta qui c'è un risveglio un risveglio totale un risveglio che veramente fra l'altro guardate un po' questo risveglio ha tutti diciamo i colori del fuoco e la regina di bastoni è una è fuoco bastoni è fuoco quindi qui ragazzi io vi vedo molto risvegliati e anche cioè qui c'è proprio anche una sorta di risveglio interiore nostro che ci porta ad avere un grande coraggio a manifestare quello che desideriamo quindi questo solsizio d'estate porta delle energie veramente molto forti molto positive e molto coraggiose cioè non c'è non c'è un punto di ritorno anzi c'è con il solsizio d'estate ha portato ad un punto di non ritorno quindi veramente c'è da aspettarsi ci sono c'è da aspettarsi veramente grandi cose grandi grandi cose ragazzi bene a questo punto mi fermo direi che più di così mi piace molto questa cosa allora ragazzi io vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao